melano corbani eccoli qua con questa bellissima peggiottina 208 rossa io vorrei farti una domanda ma so che tu mi risponderai speriamo che tutti me lo hanno detto speriamo bene davvero io ve lo auguro veramente di cuore per voi siamo qua ma voi siete in prova speciale noi non ce lo dimentichiamo che voi vi divertite fate divertire gli altri grazie ragazzi no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.